Cercate l'Europa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. In Calabria 2.809 reati ambientali, il rapporto di Lega Ambiente sull'ecomafia e la nostra fra le regioni con più illeciti. Il comandante della stazione dei carabinieri forestali di Cava di Melis pilotava le indagini e favoriva le imprese vicine ai clan, il quadro che emerge dall'inchiesta che ha portato all'arresto del maresciallo ritenuto vicino alle cosche. Operazione dei carabinieri nel Regino, 31 i fermi, disarticolate due cosche di Rosarno, in lotta per il controllo del territorio. La nuova stagione inizia con i soliti problemi, mare sporco e lamentelle dei villeggianti. Porto di Gioia Tauro permangono molti dubbi sul futuro dell'infrastruttura, nonostante le promesse ad oggi il porto continua a perdere appeal e c'è il rischio di licenziamenti. Avvistata una balena a largo di Praia Mare, il cetaceo notato da alcuni pescatori che ne hanno filmato il passaggio. Attesa per l'arrivo del regista Oliver Stone al Magna Grecia Film Festival, avvia il prossimo 25 luglio. Buonasera dalla redazione di Tele Europa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Parliamo di Ecomafia in apertura del nostro Tg perché c'è il rapporto di lega ambiente dove si evince che in Calabria sono stati rilevati 2.809 reati ambientali e la nostra è fra le regioni con più illeciti. Rosalba Baldino, sentiamo. 2.809 reati ambientali registrati in Calabria nel corso del 2017 e quanto emerge dal rapporto Ecomafia di lega ambiente presentato oggi alla Camera. La nostra regione si piazza Quinta a guidare la poco invidiabile classifica e la Campania. Secondo quanto emerso dal dossier nel settore dei rifiuti, la percentuale più alta di illeciti su scala nazionale. Preoccupa anche l'abusivismo edilizio. Sono 17.000 le costruzioni illegali dal report tra le altre cose. Emerge che il fatturato del business Ecomafia aumenta in un anno del 9,4% e sfiora quota 14 miliardi sul fronte del contrasto. Dal rapporto di lega ambiente spiccano le 538 ordinanze di custodia cautelare emesse per reati ambientali, 139% in più rispetto al 2016. In particolare la legge 68 in Calabria è stata applicata 44 volte, contestati delitti inoltre contro gli animali e fauna selvatica, gli incendi boschivi, il ciclo del cemento. Per quanto riguarda l'abusivismo edilizio, portate alla luce 3.900 infrazioni sul fronte ciclo illegale del cemento. Il 46,2% dei reati si concentra nelle quattro cosiddette regioni a tradizionale presenza mafiosa, ossia Campania, Sicilia, Puglia e Calabria. Infine i reati contro la biodiversità in Calabria e Pirati, così sono stati definiti, sono 496, un report che delinea quanto sia ancora lontana l'idea del rispetto dell'ambiente nella nostra terra. Adesso parliamo di rifiuti perché c'è un video che a Cosenza mostra cumuli di immondizie abbandonati per strada, sporcizia e topi. Eccolo il video postato sui social da alcuni consiglieri comunali di Cosenza, mostra cumuli di rifiuti divenuti ricettacolo per i topi. Siamo nella zona di Via Popilia, nella città dei Bruzzi e le riprese le ha fatte dal suo smartphone proprio il consigliere Giovanni Cipparrone. Noi metteremo in campo tutto quello che serve affinché tutto ciò venga risolto per il bene e la salute dei cittadini, ha poi scritto su Facebook. Però è certo che i cittadini dopo questo video devono rendersi conto che la propria salute pubblica non la si può mettere a rischio perché non si fa la raccolta differenziata. Parole sagge perché Cipparrone punta il dito sull'inciviltà e l'incuria e sprona chi legge a riflettere, visto che questi cumuli potrebbero far crescere una colonia di topi. Insieme a Cipparrone ci mettono la faccia anche altri due consiglieri, Pasquale Sconosciuto e Francesco Cito, che appunto chiedono a questi incivili di pensare alla salute dei propri figli. Non è il primo, ne siamo sicuri, l'ultimo caso che siamo costretti a raccontarvi. Qualche tempo fa il primo cittadino di Cosenza aveva postato i video di alcuni incivili che lasciavano la spazzatura qui e lì per la città ed erano stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, ai quali poi occhiuto avrebbe fatto recapitare una multa salata. Anche a Reggio il sindaco Falco Matà aveva parlato di Lordazzi, riferendosi ad alcuni cittadini che indisturbati riponevano di qua e di là i rifiuti per le strade cittadine reggine, come se fosse una cosa, lontana anni luce dal proprio orticello. Peccato che la salute pubblica è anche cosa loro. Speriamo ci pensino due volte, la prossima volta. Adesso la cronaca con l'arresto del comandante della stazione dei carabinieri forestali di Cava di Melis. Secondo le accuse avrebbe pilotato alcune indagini favorendo imprese vicine ai clan, il quadro che emerge da questa inchiesta. Isabella Rocca. Da due giorni il comandante della stazione dei carabinieri forestali di Cava di Melis è nel carcere militare di Santa Maria Capoavetere. Carmine Greco si è occupato di importanti inchieste, le ultime in ordine di tempo la Flumen Luto sull'alluvione di Corigliano Rossano e quella su Calabria Verde che ha portato agli arresti di una funzionaria dell'ente in house della regione e di un agronomo per una tangente da 20.000 euro. Greco è stato anche consulente del ministro dell'ambiente con i ministri Clini e Ghelletti. Eppure le accuse che gli contesta la DDA di Catanzaro guidata dal procuratore Nicola Gratteri sono davvero pesanti. Avrebbe favorito gli interessi di ditte amiche sul controllo boschivo imprese vicine alle cosche che anche dai boschi dell'asila traggono ingenti guadagni. E l'arresto del maresciallo rientra nell'inchiesta antimafia Stigia che ha svelato gli interessi dell'endrine su quello che è stato denominato l'affare dei boschi. Secondo quanto ricostruito dalla DDA grazie anche alle dichiarazioni di un pentito Francesco Oliverio ex capo del locale di Belvedere Spinello il comandante della stazione di Cava di Melis avrebbe favorito la ditta dei fratelli Spadafora impresa attraverso la quale l'andrina controllava il settore del taglio boschivo e così i controlli e le sanzioni disposte dal comandante riguardavano esclusivamente imprese concorrenti che in questo modo venivano estromesse. E non solo, il maresciallo sarebbe stato anche il registo occulto di indagini come nel caso dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Antonella Caruso funzionaria di Calabria Verde per una tangente da 20.000 euro pagata dall'imprenditore Antonio Spadafora arrestato nell'inchiesta Stigia. La donna ha intascato davvero tale somma secondo gli investigatori ma il ruolo di Spadafora nella vicenda è stato plasmato proprio dal maresciallo greco il quale gli avrebbe suggerito come scrivere gli sms e come cucirsi addosso il ruolo di imprenditore concusso una posizione certamente meno grave di quella contestata in Stigia inchiesta nella quale Spadafora è stato individuato come imprenditore organico e clan del settore dei tagli boschivi e così mentre il maresciallo greco pilotava le indagini gli investigatori della DDA lo tenevano sotto controllo intercettavano le sue conversazioni e alla fine sono scattate le manette insomma una storia complessa che ha svelato affari, ingerenze, commissioni, rapporti tutti ancora da chiarire Ancora la cronaca ci portano il reggino per un'operazione dei carabinieri 31 le persone fermate e disarticolate i due cosche di Rosarno in lotta per il controllo del territorio Due cosche in guerra o quasi pronte a tutto per imporre la propria forza sul territorio di Rosarno e per ottenere l'esclusiva di un enorme traffico internazionale di cocaina e hashish 31 provvedimenti di fermo sono stati decisi nei confronti di altrettante persone, tutte di Rosarno e tutte invischiate nelle attività mafiose del grosso paese pianigiano che sarebbe diventato di qui a poco teatro di una nuova e non contenibile guerra di mafia della quale i prodromi da mesi cominciavano ad essere chiari I due gruppi, uno costituito dalla rappresentanza storica del clan Cacciola l'altro formato da un cartello composto dai dissidenti dei Cacciola e dalla famiglia Grasso erano intenzionati a primeggiare e così come cellule impazzite svincolandosi evidentemente dagli accordi sottoscritti si erano lanciati in una pericolosa strategia del terrore La cronaca aveva registrato aggressive intimidazioni, danneggiamenti e agguati con armi ed esplosivi ma era solo l'inizio Dall'ottobre scorso i carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria e i magistrati della locale procura distrittuale antimafia avevano avviato un'indagine che ha portato al blitz di questa mattina L'inchiesta, oltre a portare al sequestro di un vero e proprio arsenale sono stati trovati fucili, mitragliatori e pistole ha permesso di accertare che i fermati trattavano affari con i narcos colombiani e con i trafficanti spagnoli e marocchini con i sudamericani si faceva compravendita di cocaina con i secondi di hashish Nel corso di perquisizioni sono state anche trovate migliaia e migliaia di euro ovviamente per le spese piccole E a Vibo adesso dove in questi giorni sono diversi i controlli da parte dei carabinieri Vediamo Nel pieno della stagione turistica il comando provinciale dei carabinieri di Vibo Valencia ha messo in atto una precisa strategia di controllo del territorio illustrato nel corso di una conferenza stampa durante la quale sono state spiegate le linee guida che accompagneranno l'azione delle forze dell'ordine in quest'area della Calabria Per raggiungere certi scopi purtroppo ci si deve impegnare si deve svolgere un servizio accurato che delle volte può anche apparire come posso dire poco simpatico quale quello può essere una sanzione al codice della strada Lo scopo però è salvare una vita per cui quando uno si legge questo dato nell'insieme e nel risultato è chiaro che anche i genitori magari dei ragazzi che si trovano a dover pagare la multa apprezzano perché il ragazzo a casa ci è tornato Noi abbiamo sperimentato questo sistema che come dicevamo ha dato dei risultati importanti e sarà il nostro metodo di approccio all'afflusso turistico che è imminente nel mese di luglio e agosto sicuramente avremo il boom di turisti nella zona costiera e opereremo come abbiamo detto anche in sinergia con i colleghi di Tropea con cui condividiamo oltre che un territorio importante tutta la zona del mare dove si arrivano ad avere presenze importanti e quindi è importante garantire la sicurezza L'occasione è servita anche per un bilancio dell'attività in questo primo FN settimana di luglio attraverso il quale si è potuto anche delineare il profilo delle principali infrazioni riscontrate nel controllo lungo le strade che offrono un quadro tendenziale di quello che rappresenta il lavoro di controllo e di prevenzione Su questo territorio chiaramente l'assenza di copertura assicurativa la fa da padrone per quello che riguarda la violazione più contestata ma come dicevo quello che è importante è ovviamente siamo nella fascia degli under 30 e la guida sotto l'effetto di stupefacenti è in stato di brezza Questo è l'elemento che emerge dall'analisi clinica dei dati riscontrati Il raddoppio delle sanzioni è determinato non sicuramente dall'incidenza del fenomeno quanto dal maggior controllo Abbiamo come dicevamo attuato dei dispositivi variabili sia in fascia oraria sia in luoghi Per cui la presenza ha determinato e determinerà nessuno fiducioso un efficace deterrente per quelli che pensano e credono di poter guidare dopo aver bevuto Chiaramente lo scopo è sempre quello di prevenire il danno irreparabile Ora ci spostiamo a Reggio Calabria dove restano in carcere i quattro indagati per l'omicidio di Fortunata Fortunio Restano in carcere Paolo Chindemi, lo zio Mario, Santo Pellegrino e Ettore Corrado Bilardi, detto Pietro I quattro uomini sottoposti a fermo dalla squadra mobile di Reggio Calabria con il coordinamento della direzione distrettuale antimafia nell'ambito dell'inchiesta sull'omicidio di Fortunata Fortunio di 48 anni uccisa il 16 marzo scorso mentre si trovava appartata in auto con Demetrio lo giudice di 53 anni indicato dagli inquirenti come uno dei referenti della Cosca Tegano La decisione del Gip di Reggio che pur non convalidando il fermo ha emesso nei confronti dei quattro un'ordinanza di custodia cautelare in carcere Paolo Chindemi di 28 anni è il presunto autore materiale del delitto il vero obiettivo secondo gli investigatori sarebbe stato proprio lo giudice che invece se la cavò con una ferita ad una spalla grazie anche al fatto che la donna gli fece da scudo gli altri tre indagati dell'operazione denominata De Bello Gallico sono accusati di associazione mafiosa e detenzione porto in luogo pubblico di armi da fuoco aggravati dalle modalità mafiose Siamo la pagina di cronaca con una notizia che arriva da Santa Maria del Cedro dove alcuni cani sono stati avvelenati con pasticche di acido di DT o di serbanti la segnalazione è arrivata da un gruppo di cittadini di Marcellina di Santa Maria del Cedro due cuccioli sono stati salvati dal veterinario mentre un cane è morto dopo aver ingerito acido noi non staremo a guardare mentre qualche malvivente si aggira sotto le nostre case a premeditare la prossima vittima sono le parole degli abitanti della zona che chiedono a gran voce aiuto affinché qualcuno possa ascoltarci e aiutarci parliamo invece adesso di estate, di vacanze perché la nuova stagione ma ci sono sempre i vecchi problemi ancora segnalazioni per quanto riguarda il mare sporco altro che relax la domenica dei calabresi è cronaca di disagi e disservizi raggiungere la costa tirrenica da Cosanza dovrebbe essere semplice e rapido invece autovelox e rallentamenti sulla strada statale 107 rendono il percorso lungo e poco agevole chi dovesse scegliere l'autostrada si ritrova con restringimenti di carreggiata e cantieri aperti per arrivare al mare i tempi si dilatano, i costi si moltiplicano e la tensione sale una volta arrivati in spiaggia ci si ritrova spesso con un mare così le immagini sono state girate ieri tra Belmonte e Cetraro sulla costa tirrenica Cosentina a inviarle alla nostra redazione un telespettatore deluso da una giornata che aveva immaginato in maniera diversa molto diversa ieri le condizioni meteo e il mare agitato hanno alimentato una condizione opposta sabato scorso quando invece l'acqua era limpida di certo resta la preoccupazione di ritrovarsi con il problema che ha caratterizzato le estati scorse quella striscia marrone indelebile nella memoria che non consente i bagni in acqua e che trasforma la vacanza in disavventura i depuratori rassicurano i comuni funzionano l'estate è arrivata e al solito la Calabria conferma se stessa una terra per temerari quelli che amano superare gli ostacoli un Eldorado da scoprire parliamo adesso del porto di Gioia Tauro perché permangono molti dubbi sul futuro dell'infrastruttura che continua a perdere a PIL c'è inoltre il rischio dei licenziamenti l'area portuale di Gioia Tauro ormai è una polveriera accanto ai cari preoccupanti di traffico sui quali ancora si attende chiarezza negli ultimi mesi è un crescendo di vertenze occupazionali oltre ai 370 licenziamenti decisi dalla società che gestisce lo scalo calabrese in questo caso MCT a luglio scorso sono finite in tribunale tante altre vicende lavorative al centro di vertenze anche le ditte terze che nei mesi scorsi hanno proceduto a una serie di tagli occupazionali e che sono state anche condannate dal giudice del lavoro del tribunale di Palmi tra queste anche un licenziamento disposto da MedCenter Container Terminal ossia la società che gestisce il porto di Gioia Tauro il giudice del lavoro del tribunale di Palmi ha disposto l'immediato reintegro sul posto di lavoro con condanna della società a pagare le retribuzioni rigettata però la richiesta avanzata dal lavoratore di risarcimento del danno questa è la prima decisione dopo i repulisti di MCT dello scorso luglio ma per il resto degli oltre 300 procedimenti attivati bisognerà attendere l'autunno prossimo nessuna decisione infatti è arrivata per ora sui licenziamenti collettivi di 377 lavoratori al porto di Gioia Tauro e collocati nella famigerata agenzia del lavoro portuale nel frattempo le segreterie territoriali di FITCGL, FITCISL e SUL hanno inviato un'ammissiva alla società terminalista che gestisce il porto sempre la MCT all'autorità portuale e all'assessore regionale Francesco Russo comunicando la proclamazione dello stato di agitazione dei lavoratori e attivando tutte le conseguenti azioni per la proclamazione dello sciopero generale in assenza di fattuali determinazioni da parte dell'azienda adesso parliamo di cinema e spettacolo perché sarà il regista Oliver Stone l'ospite d'onore della rassegna Magna Grecia Film Festival al via a fine luglio è il festival delle opere prime del cinema e dello spettacolo dei grandi eventi a Catanzaro tutto pronto per la quindicesima edizione del Magna Grecia Film Festival al via il prossimo 28 luglio nel cuore della Magna Grecia nella suggestiva location del porto marinaro di Catanzaro fino al 5 agosto proiezioni, dibattiti, live musicali Magna Grecia quest'anno viene dedicato a uno dei più grandi maestri del cinema mondiale che è Vittorio De Sica e ci auguriamo come ogni anno di scoprire un nuovo De Sica ci sarà una giuria di altissimo profilo da presidente di giuria che è Paolo Genovese ad Anna Foglietta, a Vittoria Puccini, a Rolando Ravello, a Edoardo Leo, a Pierfrancesco Favino quindi penso che abbiamo anche quest'anno tirato fuori una delle più importanti giurie nel panorama nazionale e stiamo lavorando anche a tanti eventi collaterali e a delle masterclass L'edizione 2018 avrà come ospite d'onore il regista statunitense Oliver Stone il Magna Grecia Film Festival è tra gli eventi storicizzati della regione Calabria è un festival che ha molte valenze, la regione ha deciso di cofinanziarlo con un investimento di 600 mila euro in tre anni perché rientra negli eventi storicizzati triennali proprio perché apre una finestra sulla città di Catanzaro su due luoghi che sono simbolici per la storia della Calabria il porto che è il simbolo della crocevia e delle culture che si sono avvicendate nella nostra terra ma anche il centro storico che è il simbolo identitario di molte nostre comunità parallelamente una vetrina di promozione di giovani talenti e questa è un'opportunità importante soprattutto oggi in cui per i giovani la strada è sempre davvero troppo faticosa Ed ora la notizia di una balena avvistata a largo di Praia a mare il cetaceo notato da alcuni pescatori che ne hanno filmato il passaggio A largo nel mare blu di Calabria siamo a Praia a mare sul Tirreno Cosentino la sorpresa per alcuni pescatori il cui video è diventato virale in rete davanti ai loro occhi a poca distanza dall'imbarcazione eccola la balena che si culla nelle acque il cetaceo è lungo circa 10 metri Mamma quando è grande giù è più grande della barca di due volte almeno L'equipaggio, gli occhi fissi sulla balena che di solito non abita ai nostri mari lo spettacolo immortalato dal telefonino Guarda quanti parassiti poverino Pescatori esperti che conoscono il mare e la vita che in esso si muove sanno che le balene sono innocue e si godono l'originale e suggestivo avvistamento un esemplare che sembra aver capito di essere osservato ed ammirato tanto da salutare con uno spettacolare colpo di coda prima di immergersi nei fondali Ora vi mostriamo le foto dell'incontro fra il governatore Mario Oliverio che proprio ha ricevuto alla cittadella a Catanzaro alcuni rappresentanti delle società di calcio professionistiche calabresi è la prima volta che tutte le società della Calabria sono sedute allo stesso tavolo con la regione ha ribadito ringraziando Oliverio anche c'erano i presidenti del Catanzaro Calcio, dell'FC Crotone Gianni Vrenna del Cosenza Eugenio Guarascio, della regina Mimo Pratico e della Vibonese Giuseppe Caffo e anche del Rende Fabio Coscarella che durante la riunione hanno sottoposto il progetto Calabria Calcistica che contiene una serie di tematiche da sviluppare nel campo del sociale e del marketing territoriale con campi estivi anche in Sila da realizzare con il marchio della regione Calabria il presidente Oliverio ha poi parlato dello sport come veicolo formidabile dal punto di vista della valorizzazione delle peculiarità della regione insieme ha detto dobbiamo trovare gli strumenti per superare i limiti legislativi che ci impediscono di sostenere economicamente le società sportive continuiamo a poi proposto un gruppo, costituiamo un gruppo di tecnici della regione e delle vostre società per studiare alcune forme che possano diventare anche un'opportunità per la nostra regione, il presidente ha poi ricordato scusate che a breve sarà pubblicato il bando sull'impiantistica sportiva per la prima volta aperto anche alle società e anche questo ha detto è un impegno concreto verso lo sport che deve vivere prima di tutto di competizione sana per contribuire a cambiare la Calabria anche in termini di immagine Lasciamo lo sport, adesso ci spostiamo a San Vincenzo la Costa con una copertina proprio dedicata alla tradizionale festa del grano E' da una copertina Grazie a tutti. 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 Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per oggi è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi. Arrivederci. E scarica la nostra app.